3 famiglia per la professionista 6, 7, go! Destro, sinistro Allora, destro, sinistro Stefano, te lo ricordi? Da capo 1, 2, è tornata la signorina della borsa Senti, fai così, lascia da lui e vieni dentro Quindi, destro Vai d'accato 1, 2, 3 Incrocio a destra Sinistro ancora E ancora Dai, che ci siamo Ormai è fatta Fatto questo si può andare su più complicato Giro E ancora Incrocio Ancora col sinistro E ancora 4, 3, 2 Giro Da capo Ricordatevi che tutti gli errori sono varianti Aspetto, tutti gli errori sono varianti Quindi non preoccupatevi Dai, siamo ancora sul primo Vai, continua E da questo momento Le gambe dovranno fare questo E giro Sulle gambe 1 Incrocio Ancora E ancora E ancora destra Giro Vai, destra Sinistra Destra Anticrocio Giro Grazie Bravosti Grazie per noi! Grazie per noi!